In questa seconda lezione, seconda parte dell'argomento che tratta i database, proveremo a rimuovere alcune delle semplificazioni che ci eravamo imposti nella prima lezione, che di fatto ci erano servite per semplificare l'introduzione, ma adesso vedremo che è un pochino limitativo e cercheremo quindi di migliorare il nostro approccio. Allora, la prima cosa a cui dobbiamo accennare è quello che vi avevo già anticipato, ossia l'utilizzo dei cosiddetti prepare statement anziché lo statement di tipo normale. Dove vogliamo arrivare? Cosa è quello del problema che stiamo cercando di risolvere? Allora, immaginate un'interfaccia che a un certo punto su JavaFX richieda all'utente di inserire, una cosa molto semplice, quasi innocua, il proprio utente, il proprio nome utente, ad esempio. Quindi ci sarà una finestra JavaFX che a un certo punto conterrà una casella di testo e all'interno di questa casella di testo l'utente scriverà il proprio username, il proprio login. E noi il programma Java cosa fa? Prende dalla casella di testo il text e lo memorizza in una stringa. Stringa la quale viene poi usata per selezionare l'informazione di quell'utente specifico. Quindi seleziona tutti i campi della tabella users dove il campo username sia uguale esattamente a questo user che è stato inserito dall'utente. Di per sé sembra funzionare. Cioè l'utente inserisce il username Pippo e qui farò una select from users where username uguale apice Pippo apice. Che problema c'è? I problemi nascono nel momento in cui stiamo mescolando all'interno del nostro codice dati scritti da noi cioè frammenti di qui riscritti da noi con frammenti di qui riscritti dall'utente. Immaginiamo che un utente come proprio username non scriva Pippo ma scrive esattamente questa cosa. appice punto e virgola spazio delete asterisco from users spazio punto e virgola trattino trattino. È uno username un pochino curioso, un pochino strano. Ma se noi mettiamo questo username dentro la stringa user e questa stringa user la concateniamo all'interno di questo SQL ciò che otteniamo è una combinazione tossico, velenosa. Select asterisco from users where username uguale apice fino a qua era nel codice Java. Poi da qua in poi comincia il valore della stringa user. Quindi inizia con questo apice punto e virgola spazio, apice punto e virgola spazio, delete punto e virgola trattino trattino apice. Cosa fa questa query una volta che arriva il database? Questa query prima fa una select from users where username uguale vuoto. Poi punto e virgola, altro statement della stessa riga, cancella tutto il contenuto della tabella degli utenti. Quindi il fatto stesso che un utente nella nostra interfaccia utente abbia scritto questa cosa qua strana fa sì che il nostro programma mandi al database questa query e questa query cancelli tutte le informazioni sugli utenti. Quindi abbiamo la cosiddetta SQL injection, cioè viene iniettato del codice SQL che anziché essere interpretato come un dato, cioè il login dell'utente, viene in realtà interpretato come istruzioni. La colpa di chi è? Di questo apice che chiude la stringa e fa sì che il resto del contenuto non venga interpretato come il valore stringa dello username, ma venga interpretato come comandi aggiuntivi. Questi due trattini finali servono semplicemente, sono il simbolo di commento in SQL e quindi fanno in modo che questo apice che era rimasto da questa parte di concatenazione in Java non crei un errore di sintassi perché viene semplicemente mascherato sotto forma di commento. Quindi voi immaginate che per qualunque... è ovvio che chi scrive questo frammento di codice deve in qualche modo conoscere che voi, o sapere o immaginare, che voi facciate esattamente questa cosa. Perché secondo il tipo di query che farete, il modo, diciamo così, per trasformarla in una query del piacere dell'utente dovrebbe cambiare. Però la regola generale è che noi stiamo in qualche modo trasformando quello che dovrebbe essere un dato, un testo, in un comando. Questo è il significato di iniezione di codice SQL all'interno del programma. E quindi un utente qualunque fa sì che il mio programma esegua sul mio database la query che vuole lui. Per evitarlo dovremmo fare tutta una serie di controlli, no? Ad esempio verificare che non venga inserito mai nessun apice. Eh, però se uno si chiama Josue con l'accento, come facciamo a vietarlo? Beh, allora l'apice potrebbe essere solamente la fine, oppure dovremmo trasformare un apice nella sequenza backslash apice che crea, diciamo così, il carattere di escape. Però, quindi dovremmo immaginarci tutti i modi possibili in cui gli utenti possono inserire dei dati malizioli che potrebbero trarre un inganno nel nostro codice Java e prevenirli, controllarli, eccetera, eccetera. Che è un lavoro immane e mai finito, perché ogni volta che troviamo una soluzione ci sarà sempre qualche utente più malintenzionato che troverà un trucco peggiore. Quindi l'unica soluzione che abbiamo è mai fidarci dei dati inseriti dagli utenti. Mai. Neanche se sembra facile, anche se sembra innocuo, anche se sembra innocente, noi non dovremmo mai inserire, mescolare dati che provengono dall'utente con query che abbiamo scritto noi. Questo per quanto riguarda la SQL Injection, ma è un principio generale che vale dappertutto. E allora cosa facciamo? Qui ci sono alcuni esempi, diciamo così, dell'applicazione di questo principio. C'è questo signore che va in giro con l'auto con scritto Drop Database Table perché lui spera che se l'autovelox lo dovesse fotografare con questo SQL Injection riuscirebbe a farsi cancellare i dati della multa direttamente al database nel momento in cui la telecamera inserisse nel database il numero di targa con una insert e allora lui inserisce un numero e poi cancella la tabella del database. Oppure quest'altra vignetta della mamma che chiama il figlio Robert Apice, chiusa tonda, punto di virgola, Drop Table Students e quindi ogni volta che il bambino prende un voto a scuola questo cancella i voti, cancella tutti i dati di tutti gli studenti della classe perché il suo nome è quello e una volta che è inserito nel database crea la SQL Injection. Vabbè, a parte queste vignette, ma rappresentano il fatto che il problema è ben noto e quindi non dobbiamo mai farci fregare. C'è un altro problema minore, devo dire, molto minore dal nostro punto di vista è il fatto che costruire una query in questo modo fa sì che il database ogni volta vedrà una query diversa, nuova, come se non l'avesse mai vista. e quindi ogni volta il database dovrà dire che query è questa, è una select, da quale tabella, quali colonne ha questa tabella, qual è il modo migliore di eseguire questa query tenendo conto degli indici che sono stati definiti su quella tabella, dei vincoli referenziali e così via. Mentre invece se il database vedesse più volte la stessa stringa, cioè capisse, sapesse esplicitamente che la stessa stringa, l'opera di comprensione della query e di ottimizzazione del piano di esecuzione della query, che sono lavori che fa il database prima di eseguirla veramente, decide qual è il modo migliore per eseguirla, ecco questo lavoro anziché essere ripetuto più volte verrebbe fatto una volta sola. Questo a patto che in qualche modo lo statement venga riusato più volte, ma se ogni volta l'utente è diverso lo statement sarà diverso. Quindi noi abbiamo un piccolo problema, un problema minore, ma comunque esiste, di prestazioni perché la query ogni volta viene, anche se è la stessa, noi sappiamo che è la stessa ma dal punto di vista del database lui si vede ricevere nello statement una stringa diversa e quindi non potrà riusare, mettere a fattore comune le ottimizzazioni che ha già fatto magari cento volte prima per esattamente la stessa query, ma che per lui invece compare come se fosse una cosa diversa. Allora, la soluzione a questi due problemi, quello primo grosso di sicurezza e quello secondo minore ma pur sempre esistente di prestazioni, è la stessa. Cioè, i prepare statement risolvono entrambi i problemi. Che cos'è un prepare statement? Noi quando abbiamo creato uno statement prima nel nostro codice abbiamo contestualmente, abbiamo creato uno statement diciamo così vuoto, fatemi riprendere clips se ce l'ho ancora qualche parte, abbiamo creato uno statement vuoto e poi contestualmente abbiamo deciso quale fosse la stringa, quale fosse la query da eseguire e l'abbiamo detto di eseguirla subito. Quindi la definizione di qual è la query e il comando di esecuzione in questo caso sono contemporanei. Col prepare statement invece questi due momenti vengono separati. cioè prima dichiaro qual è la stringa, la query SQL e potrò anche dichiarare che questa query non è una query già completa ma è solamente un template, solamente uno schema, un modello di query perché al suo interno contiene ancora dei parametri, cioè delle quantità variabili che al momento non so ancora e che ti dirò in un secondo momento. questo template la dichiaro una volta sola e quindi il database la vede una volta sola e la può ottimizzare una volta sola. Poi quando vorrò eseguire veramente la query allora dovrò dire adesso eseguila e ovviamente ti dovrò fornire i valori specifici dei parametri che erano stati lasciati liberi, non indicati nel modello di query che abbiamo definito prima. Quindi capitano due cose. Uno è che poiché creo una sola volta lo statement e lo eseguo più volte, il lavoro di conoscenza e ottimizzazione dello statement stesso viene fatto una volta sola perché lo stesso statement viene eseguito più volte e quindi ciò che conta ovviamente è il tempo di esecuzione ma il tempo di preparazione e ottimizzazione viene fatto una volta sola. e poi il secondo aspetto, quello più importante, è che a questo punto i valori dei parametri non sono inseriti nella stringa ma sono forniti a parte. Sono forniti a parte sotto forma di oggetti java e quindi un oggetto java non ha confusione con un apice, l'oggetto java sa se l'apice fa parte della stringa oppure no, tanto per agganciarci all'esempio di prima. e quindi tutti questi problemi di sicurezza scompaiono automaticamente perché il valore da fornire non viene incollato come stringa, non viene concatenato come stringa ma viene fornito a parte sotto forma di oggetto java e quindi non c'è più rischio di confusione nell'interpretare quell'apice maledetto. Dal punto di vista pratico, l'uso di prepare statement è molto semplice. Innanzitutto dobbiamo definire quello che è un template di stringa, quindi è una query SQL come tutte le query, questo è un update, potrebbe essere una select, insomma a vostro piacere. e in alcune parti ci sono dei punti interrogativi. Questi punti interrogativi sono i segnaposto, i placeholder per i parametri. Quindi io dico, beh, questa query servirà per aggiornare la tabella music mettendo il prezzo a un certo valore quando l'identificativo del disco, del brano, è un certo valore. Fatto questo, questa query può essere definita una volta sola attraverso questa istruzione di prepare statement. Quindi anziché fare connection punto create statement come facevamo prima, che creava uno statement nuovo, a questo punto chiediamo alla connection di preparare, di fornirci un prepare statement, preparami uno statement che sia già relativo a questo template. Quindi la differenza tra create statement che non ha nessun parametro, invece prepare statement ha bisogno del template di statement da eseguire. E poi, e quindi questo statement più avanti verrà eseguito, execute query, execute update, quello che devo fare, ma ovviamente prima di eseguirlo dovrò fornire un valore al primo e al secondo parametro. Questo si fa con dei metodi set che sono un po' simmetrico rispetto ai getInt, getString del resultSet, i quali permettiamo di estrarre un risultato, in questo caso ci permettono di impostare un parametro. Sono metodi di statement e hanno due parametri. Il primo parametro è l'ordine del punto interrogativo, quindi quando metto 1 vuol dire che sto indicando il valore del primo parametro, quando metto 2 indico che sto specificando il valore del secondo parametro. E poi il secondo parametro della funzione set è ovviamente il valore da inserire, da sostituire lì dentro. Quindi come vedete lo statement viene preparato qua a partire da una stringa, ma i valori parametrici vengono inseriti inserendo degli oggetti. in questo caso sono gli oggetti tipo float, tipo int, possono essere qualunque tipo di oggetti che sia facile da convertire nel tipo SQL corrispondente. E poi alla fine eseguo lo statement esattamente come prima. Quindi ho separato la definizione del template, che è contestuale la creazione dello statement preparato, dalla definizione dei parametri che invece avviene contestualmente subito prima dell'esecuzione vera e propria della query. quindi diciamo che non è molto diverso, tutto sommato è più facile da scrivere perché non devo andare qui a chiudere la stringa, a concatenare il prezzo, a concatenare l'altro, devo fare attenzione che se è il valore di tipo stringa ti devo mettere l'apice, se è il valore di tipo intero invece non ci devo mettere l'apice, se è un reale lo devo convertire eccetera eccetera, ma semplicemente gli passo l'oggetto. Quindi alla fine è più facile da scrivere, mi risolve totalmente il problema della SQL injection, è più efficiente perché il template di statement è sempre lo stesso, quindi il database lo può riconoscere e lo può riusare, quindi ci fa risparmiare qualche gentile millisecondo ogni volta che lo eseguiamo. Quindi in pratica la lezione che impariamo e che ci portiamo a casa è, i prepare statement li usiamo sempre, punto, senza discussione. Quindi ci dimentichiamo, possiamo dimenticarci dell'oggetto statement. In particolare come possiamo modificare questo programma? Beh questo programma semplicemente fa una query non parametrica, ma nessuno ci obbliga a mettere dei punti interrogativi nella query, quindi possiamo benissimo lasciarla non parametrica. Fatemi modificare questa query, a questo punto la devo definire la query prima di creare lo statement. Anziché create statement chiederò la connessione di prepararmi uno statement, al quale ovviamente passerò il template di stringa SQL che mi serve. E poi semplicemente eseguo la query. Quindi l'unica differenza ce l'ho avuta, qua, dove anziché, scusate, execute query, a questo punto, visto che stai, no, sbagliato, questo non è statement, ma è prepare statement, e l'oggetto prepare statement, che ovviamente devo importare, avrà un metodo execute query, il quale però non ha bisogno della query stessa. Quindi abbiamo anticipato la definizione della query prima, prima della creazione dello statement, e al momento di eseguirla non abbiamo avuto bisogno di fare nulla di particolare. Questo dovrebbe funzionare esattamente come prima, verifichiamo. direi che funziona esattamente come prima. Se vogliamo prendere, diciamo, sfruttare il fatto che questa prepare statement può accettare anche dei parametri, potremmo pensare di modificare la query, come avevamo visto prima, selezionando anche magari il luogo dove si trova. Quindi in questo caso, diciamo, vogliamo selezionare non tutte le stazioni, ma solamente quelle che si trovano in una certa città. Quindi modifichiamo la nostra query, select name from station when landmark uguale, ecco questo è un parametro che vogliamo modificare. Poiché questo parametro può essere diverso, magari verrà scelto dall'utente, io non lo indico con una singola stringa, ma lo indico con un punto interrogativo. Attenzione che il punto interrogativo, nel caso di stringhe, va fuori dagli apici, ok? Perché se io scrivessi apice, punto interrogativo, apice, starei, questo non è un parametro, ma semplicemente una stringa che vale il carattere punto interrogativo e quindi non verrebbe interpretato come parametro. Ma questo, semplicemente, qui dice qua ci vuole un parametro, ovviamente se è un parametro di tipo stringa ci penserà jdbc, la libreria, a metterci gli apici dove servono, ma in realtà non ce ne mette neanche gli apici, semplicemente manda il valore a parte. Allora, questa istruzione adesso non è più eseguibile, perché se io provassi ad eseguirla, lui mi darebbe un'eccezione del tipo, ecco la leggiamo qua sotto, il parametro nella posizione 1 non è stato impostato. Sto cercando di fargli eseguire una query qua, che è una query con un template parametrico, che è stata preparata a partire da un template che contiene un parametro e il valore di questo parametro non è stato definito. Allora, prima di eseguire la query ovviamente dovrò definire, dovrò semplicemente dire string statement punto set string, il parametro 1 voglio che sia, in questo caso, palo alto. attenzione che qua devo usare le virgolette doppie perché lo sto scrivendo in Java, non lo sto scrivendo in SQL. E quindi in questo caso mi dovrebbe far vedere, al posto del parametro 1, cioè del primo punto interrogativo che ha incontrato, inserirà questo nome di città e quindi i risultati della query saranno limitati solamente alle stazioni di bike sharing di questa città. Quindi questo è il modo con cui lavoreremo. Se io dovessi subito dopo fare un'altra query in cui cambio semplicemente il valore del parametro, farò semplicemente set string execute, queste due li posso ripetere quante volte voglio, con valori diversi, mentre l'SQL e il prepare statement lo faccio una volta sola all'inizio. Questo è il risparmio di tempo. Mentre il risparmio sulla sicurezza, sulla SQL injection c'è ovviamente perché qui non c'è più nessuna operazione di concatenazione o rimescolamento di stringhe che potrebbe essere, diciamo, quello che ci creava i problemi. Quindi questo è il primo passaggio che volevo fare. Quindi magari facciamo un piccolo commit su questo progetto così riusciamo a tenerci da parte questa piccola modifica. Quindi diciamo introduzione di prepare statement. Ok. Quindi ho modificato solamente questo file. Boh, questa era la prima cosa che volevo dirvi, è la cosa più semplice. Da adesso in avanti non usiamo mai più statement, usiamo sempre prepare statement. Per questi due motivi entrambi molto importanti che abbiamo appena visto. Fatto questo andiamo avanti e proviamo a rispondere all'altra domanda che avevamo lasciato in sospeso. Ne avevamo lasciato in sospeso tre. Uno è la sicurezza, la due l'organizzazione del codice, la terza sono le prestazioni e queste le vedremo invece più avanti. La seconda domanda, la prima, insomma, dipende dall'ordine con cui le elencate, è l'organizzazione del codice. Quindi qual è il pattern di programmazione più utile per poter organizzare questo codice? Ricordiamoci che i nostri programmi, le nostre applicazioni hanno già una parte di view, la vista fatta in fxml, hanno il controller, avranno un model e adesso hanno anche l'accesso al database. Sono livelli diversi, sono livelli architetturalmente distinti e forse varrebbe la pena di mantenerli separati anche a livello di codice. quindi ci facciamo a livello di accesso al database la stessa domanda che ci siamo fatti la settimana scorsa a livello di interfaccia utente. Come è meglio separare le varie competenze e quindi capire a quali classi dare quali responsabilità. Per fare questo ci viene incontro a questo pattern di progetto che si chiama DAO, database access object. Quindi il problema ovviamente qual è? È quello che a collegarsi al database e fare le query diciamo così consiste di codice molto molto specifico. C'è codice in cui devo conoscere la libreria JDBC, devo conoscere le stringhe di connessione, conoscere i comandi SQL, SQL devo sapere esattamente come è fatto il database, quali sono le tabelle, quali sono le colonne eccetera eccetera. Questo però non ha quasi nulla a che vedere col codice applicativo, col resto del programma, cioè a me quando faccio l'interfaccia utente, quando faccio il controller, quando faccio il model, quindi quando sviluppo l'algoritmo, non mi interessa sapere come si chiama una tabella del database o come, diciamo così, sono collegate due chiavi esterne. Quindi sarebbe bene riuscire a tenere separato la parte di gestione dati dalla parte di database e ancora di più la parte di interfaccia utente dal database che proprio non hanno nulla a che condividere. Quindi come possiamo organizzare meglio il codice in modo da isolare tutta la parte di l'accesso al database in classi separate ma che poi siano di facile uso da parte del programma principale. Allora per rispondere a questa domanda ci ispiriamo a uno di un pattern che viene proposto in letteratura che è appunto quello denominato DAO, Data Access Object. Lo trovate anche se fate le cerche su internet, cercate DAO, vedete che delle classi si chiamano DAO, effettivamente implementano questo tipo di accesso. Allora il pattern DAO è basato sulla suddivisione in quattro tipi di classi praticamente che si dividono il lavoro. Quelle che qua sono chiamate classi client, cioè la parte dell'applicazione del programma che ha bisogno di accedere al database. Nel nostro caso sarà il model, cioè il model che è colui che gestisce i dati a un certo punto deve usare, accedere, modificare a un dato che non possiede, quel model non ce l'ha ancora quel dato e quindi dirà magari nel database chiedo il database. Quindi in questo caso il model è il client del database. La cosa importante è che la classe client è ignorante su tutto quanto riguarda i dettagli del database. Per il model, per il resto del programma, il database è una scatola nera. Ci saranno alcuni metodi da richiamare per ottenere le informazioni che sono presenti nel database. Punto e basta. Tutto il programma, in particolare il model, abbiamo già detto la volta scorsa, il model non deve importare mai la libreria JavaFX. Adesso stiamo dicendo il model non deve importare mai la libreria JDBC. E chi lo fa il lavoro sporco di implementare e di importare la libreria JDBC e di fare sapere come fare le query? Lo fa la classe DAO, appunto. Uno o più classi che noi chiamiamo, che hanno il ruolo di DAO, di Data Access Object. Queste sono le classi nelle quali viene usato JDBC. Quindi il codice che abbiamo scritto prima sarà il codice che è inserito all'interno delle classi JDBC. Sono classi che tipicamente non hanno stato, quindi non hanno variabili, non sanno perché una query serve, non sanno chi serve né perché serve, ma la sanno fare, sono capaci a farla. Quindi io nel DAO definirò dei metodi che mi permettono appunto di restituirmi un valore, restituirmi un elenco di valori, eccetera, eccetera. Quindi meccanismi di accesso, diciamo, di basso livello, il singolo metodo della classe DAO saprà eseguire quella query e restituire i valori. Quindi il DAO non sa a che cosa serve quel dato, il model non sa come fare la query, ma messi insieme ci riescono, ognuno fa la sua parte. Ovviamente tutta la coreografia di classi JDBC, quindi driver manager, result set, più avanti vedremo data source, eccetera, eccetera, servono, ma sono usate solamente dalle classi DAO, assolutamente solo dalle classi DAO. Quindi il client, il model, non le deve vedere. Non vogliamo che le veda. E quindi tutta la conoscenza di come è fatto il database e come, diciamo così, funziona la rivireggia JDBC è incapsulata in una classe sola, o in più di una classe, nel caso in cui ci siano tanti metodi, il database sia particolarmente vasto, allora servirà più di una classe DAO. Ma poi come si parlano tra di loro il model, che qui è chiamato client, perché diciamo qui nel pattern epigenerico, il model call DAO? E si cambiano scambiandosi oggetti. Allora in alcuni casi gli oggetti saranno oggetti primitivi, una stringa, o una lista di stringhe, ma in molti casi saranno liste di oggetti. Cioè se io nel mio esempio voglio ottenere non solamente i nomi delle stazioni, che potrebbero benissimo essere una lista di stringhe, ma tutti i dati sulle stazioni, e allora mi servirà un oggetto stazione all'interno del quale mettere i vari attributi, che sono l'ID, il nome, le coordinate, eccetera, eccetera. Il numero di posti di biciclette disponibili, la città e la data di installazione. Questi sono i campi che descrivono una riga della tabella station, e quindi sarebbero un oggetto stazione gestito dal mio programma. Allora stiamo pensando che ci serve una serie di oggetti che rappresentano, che mappano, rimappano, nel mondo Java, quello che è la struttura delle tabelle nel mondo SQL. Questi oggetti spesso si chiamano DTO, Data Transfer Object, perché sono gli oggetti che servono per trasferire i dati dal database verso l'applicazione, o dall'applicazione verso il database. E quindi i metodi del DAO ricevono parametri di questo tipo, di oggetti fatti così, non ce n'è uno solo, ci sarà chiaramente un oggetto che si chiama Station, un oggetto che si chiama Trip, e così via. E quindi i metodi del DAO ricevono oggetti di questo tipo, di questa famiglia, e restituiscono i risultati sulla sorta forma di oggetti, o collection di oggetti di questo tipo. Quindi in qualche modo sono la rimappatura in Java del modello dati gestito dal database. E normalmente questi oggetti non sono altro che dei semplici oggetti Java, dei Java Beam, quindi oggetti che sono fatti di proprietà e metodi di accesso a queste proprietà, e null'altro, poco altro, che magari qualche piccola operazione di validazione. Quindi sono oggetti stupidi, nel senso che non implementano alcuna funzionalità logica, ma semplicemente sono dei contenitori di dato. Questi sono i più fortunati di tutti, perché questi oggetti non sanno cos'è il DAO, non sanno cos'è il database e non sanno cos'è il model. Semplicemente loro contengono gli oggetti, non importano nulla, non chiamano nessun metodo di altri oggetti. Il bello di questi oggetti è che non chiamano mai metodi, lavorano solamente internamente sui propri dati. Sono a loro volta presi, costruiti e richiamati, spostati tra le varie altre classi. Allora, se vogliamo riassumere questa chiacchierata a livello di diagramma delle classi, la possiamo organizzare così. Quindi questo è il nostro modello. Poi avremo una classe che chiameremo DAO, che ha dei metodi per creare, per leggere, per interrogare, per aggiornare, per cancellare dei dati. E questa classe accede a DataSource oppure Connection, sono le classi JDBC, usa il ResultSet, e quindi questa classe DAO, queste ultime due colonne di destra, queste classi di destra, rappresentano il database. Cioè tutto il livello JDBC di accesso al database. La classe DAO è la classe intermedia che fa sì che il model possa fare dell'operazione sul database chiamando dei metodi del DAO. Ovviamente per poter parlare tra di loro, il client e il DAO usano degli oggetti di tipo TransferObject, DataTransferObject, che incapsulano le informazioni vere e proprie. Questo è il pattern che useremo. Quindi il client conosce il DAO, il DAO non conosce il client. Come vedete non c'è nessuna freccia che dal DAO vada verso il client. Quindi il DAO non conosce il model. Il DAO conosce il database, il DAO conosce gli oggetti di TO, il model conosce gli oggetti di TO, ma questi oggetti di TO non conoscono nulla. Non hanno bisogno di chiamare metodi, né creare oggetti di altro tipo. Quindi abbiamo anche qua messo delle barriere di conoscenza per essere sicuri di lavorare in modo pulito. Il model non conosce JDBC, non conosce JavaFX. Il DAO non conosce il model, e quindi a maggior ragione non conosce l'interfaccia utente, ma conosce il database. È l'unico a conoscere le informazioni sul database. Quindi questa classe DAO come la progettiamo? Di base normalmente non ha bisogno di avere variabili, delle proprietà, delle variabili interne. Non ha stato. Offre dei metodi, offre dei metodi a chi ne ha bisogno. Quindi raccoglie delle funzioni. Se abbiamo un database complicato, complesso, fatto di molte tabelle, potrebbe essere utile avere tante classi DAO. Adesso in questo caso qua, noi abbiamo due tabelle, potremmo fare un'unica classe DAO, con 3-4 metodi, oppure una classe che si chiama StationDAO, il DAO che gestisce la tabella Station, e TripDAO, ad esempio, un DAO che gestisce la tabella Trip. Oppure, semplicemente, ne facciamo una per tutto, la chiameremo BabsDAO, e allora gestisce l'intero database. Se ci sono molti metodi a implementare, ovviamente, è utile dividerli in più classi diverse. se ciascuna classe si occuperà, magari non solo di una tabella, ma di una parte del database. Questi metodi del DAO, tipicamente, questa classe DAO, scusate, tipicamente offrono dei metodi che ci ricordiamo con l'acronimo CRUD. Create, Read, Update and Delete. Cioè, ci permettono di creare nuovi oggetti, cioè inserire dati nelle tabelle, Read, cioè leggere dei dati da tabella, eventualmente modificare, eventualmente cancellarli. I Delete, di solito, io preferisco sempre non implementarli mai, né un pensarci neppure, perché cancellare dei dati è sempre un peccato, ma sicuramente leggere e scrivere, Create and Read, sono i metodi più importanti. Ma in più potrebbe anche offrire dei metodi di ricerca. Cioè, un metodo Read, di fatto, parte dalla conoscenza di un elemento, tipicamente della chiave primaria, e restituisce gli altri attributi. Quindi un metodo Read, della nostra tabella Stations, potrebbe essere un metodo che, dato, l'ID della stazione, che ne so, 25, che è qua, mi restituisce tutti i dati di quella riga. Mi restituisce l'oggetto che rappresenta quella station. Ma se io invece volessi sapere quali sono le stazioni che hanno più di 10 posti disponibili in questo DocCount, allora la risposta non è univoco, non è una riga sola, ma a questo punto devo fare una ricerca. Ovviamente il database lo sa fare benissimo queste query, e però avrà dei metodi che non sono semplicemente un Read, ma sarà un Search, un metodo di ricerca. Quindi, facciamo, diciamo così, ipotizziamo di progettare un tipo di classe DAO per gestire un'ipotetica tabella degli utenti. Ok? Allora immaginiamo la classe User DAO. Che metodi potremmo dare a questa classe? Beh, potremmo avere un metodo dato un ID, quindi un identificativo univo con la chiave primaria dell'utente, dammi l'oggetto utente. Quindi potrebbe essere un modo per implementare la funzionalità di Read. Data un identificatore, mi dai tutta l'informazione dell'utente. Questo è il metodo che il DAO espone. Questo è il metodo che il model potrà chiamare, e poi ovviamente dentro l'implementazione di questo metodo ci sarà l'apertura della connection, la creazione dello statement, la definizione delle query, tutte le cose che abbiamo visto prima, i sei passettini, che implicano ogni volta l'accesso al database. Poi ci sono, se vogliamo, forme diverse in cui si può implementare questa cosa. Io potrei dire, in questa prima forma, io sto presupponendo che ti passi un intero e il metodo Find del DAO crea un oggetto user e me lo restituisce. È possibile. Ma se questo oggetto user io ce l'avessi già, potrei dire, beh, ti passo un ID, ti passo un oggetto user vuoto e tu mi riempi i campi di questo oggetto. Quindi l'oggetto ce l'ho già io anziché crearmelo tu. Questo può essere utile quando il user magari non è una classe ma è un'interfaccia. E quindi sarò io che so che oggetto devo creare, una volta che l'ho creato ti passo un oggetto che implementa con l'interfaccia e tu riempimelo. Mentre invece in questo primo caso sto presupponendo che il metodo Find sia in grado di creare lui l'oggetto user. Una piccola variazione dipende ovviamente di cosa stiamo facendo. Alcuni preferiscono invece compattare il tutto in questo modo dicendo io ti passo un oggetto user il cui campo ID è precompilato. Ovviamente ID sarà una proprietà di user. Gli altri campi non sono compilati ma li riempi tu. È molto sintetico ma a volte può essere anche meno leggibile. Oppure posso avere un metodo di ricerca in cui ti dico ti do magari la mail e la password e mi dici se c'è o non c'è un utente che abbia questa mail e questa password. Oppure molto più banalmente un metodo list dammeli tutti e quindi mi restituisci quindi user.dao.list mi restituirà una lista di oggetti user quindi crea questa lista di utenti e io ho in unica chiamata di metodo avrò l'intera coppia della tabella degli utenti sotto forma di list che sarà un error list una linked list dipende dall'implementazione di questo metodo. Oppure ad esempio ho un metodo di ricerca quindi do il nome un nome utente e non è detto che ci sia un utente solo con quel nome e quindi il risultato non sarà più come un find che mi restituisce uno user ma sarà una lista di user sarà tutti gli utenti che corrispondono che matchano con quel nome quindi sono tipi di metodi che possiamo definire e poi ci sono i metodi di aggiornamento quindi crea un nuovo utente quindi ti passa l'oggetto utente lui tu inserisci un nuovo campo nella tabella oppure aggiorna i dati di un utente e quindi lui prende l'id di questo utente lo prende per buono e modifica gli altri dati legati a questo singolo utente noi nel nostro corso questa operazione di modifica del database saranno estremamente rare di solito ci concentriamo più sulla lettura dei dati che non sulla modifica degli stessi per cui ci perdo un pochino meno tempo allora con queste indicazioni come facciamo di nuovo torniamo sul lato pratico a modificare la nostra il nostro programmino di prova allora innanzitutto il primo suggerimento che ci viene dato è tieni separato il modello del database quindi io magari anche proprio a livello di classi separo mi creo un nuovo package che chiamo db e dentro sql.db e dentro questa classe db questo package db ci metterò i metodi di accesso al database quindi creo una classe che in questo caso il mio database è piccolo e quindi la chiamo bubs.dao questa sarà la classe che contiene i metodi che mi servono che devo implementare la classe model farà uso di questa classe dao tutte le volte che ne ha bisogno e quindi la classe model da questa classe leggi.bubs che avevamo prima che sarebbe il client che ha bisogno di queste informazioni dovremo via via asciugarla e togliere queste informazioni legate a jtbc e spostarle via via dentro il model proviamo a fare un piccolo passo di progettazione noi vogliamo ad esempio avere le informazioni su tutte le stazioni di parcheggio delle biciclette e quindi potremmo avere bisogno di un metodo come lo possiamo codificare questo ad oggetti come il metodo della classe babs.dao potrebbe essere un metodo list station fammi l'elenco delle stazioni e restituisce che cosa? restituisce un elenco di oggetti station e questo è un primo metodo che il dao potrebbe implementare allora list ovviamente è un java.util.list e station cos'è? e station è l'oggetto che trasferisce i dati è l'oggetto che rappresenta la singola stazione e quindi ad esempio dove lo definiamo questo oggetto? beh è un oggetto che contiene dati quindi il posto giusto in cui questo oggetto può vivere è il model è nella parte del modello dati quindi nel modello dati posso creare una nuova classe station che mi rappresenti la stazione stessa questa station che cosa avrà? avrà degli attributi che corrispondono poi lo vedremo un pochino più dettagliatamente questo passaggio ma degli attributi che corrispondono alle colonne della tabella o almeno a un sotto insieme delle colonne che mi interessa di questa tabella quindi avrà un private int id poi avrà un cosa abbiamo? un name un private string name poi avrò una colonna che l'attitudine per il momento tralasciamole dai per velocità doc count private int doc doc count ck count poi avrà ancora landmark ad esempio lasciamo perdere le date private string landmark è un sotto insieme dei campi non ci sono tutti per ragioni di brevità di brevità ma stiamo costruendo poco per volta poi vedremo come generalizzare questo approccio allora questa classe station è una classe semplice è un java bean come l'avevamo accennato e quindi possiamo completare la sua definizione inserendo un costruttore costruttore partendo dai campi e poi sto aggiungo i setter e i getter per i vari campi quindi chiedo a eclipse di crearmi tutti i setter e i getter per i vari campi quindi questo è il minimo che posso fare per definire un oggetto che sia utilizzabile e a questo punto avendo definito l'oggetto station il mio va dal mio metodo list station importerò ovviamente in riferimento a questo oggetto e posso finalmente restituire interrogare la tabella e restituire la lista di stazioni come? vabbè ovviamente dovrò implementare una interrogazione SQL che sarà semplicemente un select asterisco from station come sempre per evitare problemi io la query me la voglio sempre prima testare per vedere se è corretta poi magari non è asterisco perché non voglio tutte le colonne quindi magari preferisco anche elencare quali siano le colonne che mi interessano lascerò minuscolo no si chiamava non si chiamava id si chiamava station underscore id station underscore id ok quindi questi sono i dati che voglio ottenere il passo successivo e quindi a questo punto se visto che questa è la query che volevo preferisco sempre evitare l'asterisco perché altrimenti se qualcuno mi aggiunge o mi cancella un campo una colonna della tabella le mie query restituiscono un valore poi sbagliato rispetto a quello che mi aspettasse quindi preferisco sempre essere più esplicito nel codice per evitare sorprese e a questo punto devo svolgere tutta la trafida tutta la liturgia JDBC quindi JDBC URL io posso fare un copia e incolla da qua e poi lo adattiamo quindi io una volta che ho definito la query avrò la JDBC URL prendo con questa JDBC URL che è quella di prima prenderò la connessione questa stringa SQL non mi serve più una volta che ho la perché l'ho già definita sopra una volta che ho la connessione preparo uno statement che in questo caso non ha nessun parametro eseguo la query e poi analizzo i contenuti della query allora per ogni linea di questa query dovrò per ogni risultato dovrò semplicemente estrarre i vari campi l'ID il nome il doc count il landmark e costruire un oggetto di tipo station quindi costruirò station S uguale new station il cui costruttore vuole il costruttore di station vuole l'ID che lo posso ottenere prendendo il result set sotto forma di intero la colonna che si chiama la colonna che si chiama station ID poi il secondo parametro è il nome quindi dal result set ottengo sotto forma di stringa la colonna che si chiama name poi il terzo parametro del costruttore richiede richiede il doc count quindi in questo caso è un intero del set punto get int della colonna doc count e come ultimo campo avrò la landmark quindi get string di landmark a questo punto ho creato un oggetto S di tipo station che corrisponde a una generica prima, seconda, terza, quarta riga del result set man mano che lo sto analizzando una volta che l'ho fatto la devo aggiungere a una lista perché io alla fine dovrò restituire un risultato sotto forma di lista lista che quindi posso creare all'inizio la creo come prima cosa così non mi dimentico list station lo chiamo result così mi ricordo che ora serve uguale new array list di station e quindi creo una lista vuota di oggetti station e per ogni oggetto nuovo station che ho creato lo aggiungerò result.add alla risultato alla vista risultate result.add di S e alla fine del ciclo finisco di eseguire la tabella chiudo lo statement chiudo la connessione e poi finalmente il risultato ce l'ho lo posso restituire se invece è andato storto qualcosa e quindi ho generato un'eccezione dovrò restituire un errore ad esempio return null per cui se tutto va bene questo blocco try non genera eccezione arriverò a questo return che restituisce sotto forma di lista il risultato se qualcosa va male questo stamperà un messaggio qui eventualmente posso compiere altre azioni per gestire l'errore e poi alla fine questo metodo restituisce nullo per dire non sono riuscito a creare la lista perché c'è stato qualche problema allora qui abbiamo quindi incapsulato dentro questo metodo tutta la conoscenza del database e del modo di interagire col database questo semplifica enormemente il mio metodo main il mio metodo run perché devo buttare via tutto se voglio conoscere l'elenco delle stazioni il mio metodo principale il mio main sarà molto più semplice dovrò semplicemente crearmi un oggetto DAO di tipo bubs DAO DAO uguale new bubs DAO che è la mia porta d'accesso al database e quindi tutte queste java.sql giustamente sono import che non servono più e noi nel model non li vogliamo leggi bubs è una classe del model e quindi non vogliamo che veda o che conosca nulla del mondo JDBC conoscerà solamente tutte le classi DAO che sono dentro il package DB e a questo punto al DAO potrò chiedere sentire situation per favore una lista di station tutte uguale DAO.list station fine e a questo punto devo importare java.util.list a questo punto potrò stamparle va bene for station s due punti tutte system.out out.println il s s.get name quindi questo programma alla fine è equivalente a quello precedente il main è molto più leggibile la differenza è che questa query mi restituisce non solamente l'elenco dei nomi delle stazioni ma l'elenco di oggetti di tipo stazione oggetti che hanno tutte le informazioni che servono vabbè in questo momento mi serve solamente il nome per stamparlo ma sarebbe è stupido fare un metodo che mi estrae solamente il nome un altro metodo che mi estrae solamente la città un altro metodo che mi estrae solamente l'id e poi li devo mettere insieme dovrei avrei un proliferare inutile di metodi proprio per questo abbiamo definito l'oggetto station che contiene tutte le informazioni che ci servono e quindi facendo run mi aspetto che se non ci sono errori strano non ce ne siano ma non ci sono ottengo esattamente lo stesso errore lo stesso risultato perdono c'è l'elenco di tutte le stazioni in questo caso me le mette in un ordine diverso rispetto a quello precedente ma è ciò che mi devo aspettare non ho imposto nessun ordine quindi il database lo restituisce come vuole se volessi aggiungere un ordine dovrei aggiungere qua un order by nella query order by name ad esempio name e in questo caso dovrebbe in teoria farmele vedere ordinate in modo alfabetico come casualmente comparivano prima però questo è un dettaglio in più quindi questo metodo list station può essere usato in qualunque momento dal model apre la connessione esegue lo stermine chiude la connessione in modo pulito e ragiona semplicemente restituendo un elenco di oggetti se io invece volessi fare l'altra operazione che abbiamo fatto cioè farmi vedere quali sono le stazioni solamente di un certo landmark beh lo posso fare facilmente basta che io crei un altro metodo che potrò chiamare list station by landmark in cui ricevo sotto forma di stringa il landmark e questo metodo sarà molto simile al precedente per cui posso addirittura copiarlo lo duplico quasi uguale a se stesso modificherò solamente la stringa dove dovrò aggiungere anche un where una clausola where where landmark uguale punto interrogativo arrivato a capo qua così si legge un pochino più leggibile e quindi questo landmark viene inserito prima di eseguire la query quindi come facevamo prima prima di eseguire la query avrò un st punto set string 1 virgola landmark quindi anche qua il metodo del DAO sa fare una cosa sa cercare le stazioni usando un parametro al DAO non interessa quale sia il valore del parametro perché dipenderà ovviamente da cosa vuole farci il programma principale e quindi sarà il programma principale che eventualmente creerà una lista di stazioni quelle di di palo alto e se lo farà dare dal DAO punto list station by landmark a questo punto lui specificherà che vuole solamente palo alto e poi le posso stampare e appunto nel secondo caso avrò solamente tutte quelle di palo alto e quindi mettiamoci solamente un divisore per poterci vedere dove finisce uno dove comincia l'altro e otteniamo la stessa cosa otteniamo la stampa di tutte le stazioni e poi quelle solamente di palo alto abbiamo di nuovo definito un metodo che è di uso generale chiunque abbia bisogno di un sotto insieme delle stazioni sono sempre sotto forma di list station e a questo punto ho specificato un filtro filtro che ovviamente è stato implementato usando un prepare statement parametrico e il parametro è stato impostato subito prima di fare la query quindi applicando diciamo così il metodo di funzionamento dei prepare statement c'è ancora una cosa che voglio modificare prima di diciamo così chiudere questo percorso nei pattern DAO è il fatto che all'interno di tutti i metodi del DAO compaia questa stringa JDBC URL ovviamente compare anche la stringa SQL ma è normale che ci sia perché ogni metodo del DAO dovrà fare una query diversa e quindi queste qui non saranno mai uguali identiche tra di loro questa invece sarà sempre la stessa immaginate che domani dobbiamo cambiare la password del database o spostarla su un'altra macchina diventiamo pazzi a andare ad aggiornare tutte queste JDBC URL in tutti i metodi di tutte le classi DAO in questo caso abbiamo due metodi di una classe fa ridere però in generale allora io cercherei di portare fuori da queste classi la JDBC URL e l'unico punto in cui serve l'unico punto in cui serve è questo serve per fare la get connection quindi io farò un'altra classe che in questo caso chiamo DB Connect DB Connect cioè una classe che serve per darmi la connessione al database e in questa DB Connect qui dentro e solo qui dentro ci metterò la JDBC URL e scusatemi mi sono perso le finestre e creerò e creerò un metodo fittizzo get connection quindi un public connection get connection che all'interno conosce la stringa JDBC URL e mi restituisce la la vera connessione chiedendolo ovviamente al driver manager così ovviamente connection sarà java.sql.connection driver manager sarà java.sql.driver manager e questo problema dell'eccezione me lo riporto lo riporto al chiamante perché in questo caso uso dico che get connection può generare la sql.exception perché ovviamente questo metodo non ha la minima idea di come gestirla quindi questa eccezione la restituisce al chiamante se questo metodo lo rendo altresì statico così come era il metodo di driver manager che era un metodo statico io posso modificare semplicemente il mio chiamante chiamando questo metodo get connection che a sua volta incapsula il metodo che delega a get connection vero ma in più si tiene anche in pancia le informazioni su quale sia la JDBC URL che quindi è messa in un punto solo di tutto il codice avessi anche molte classi DAO tutte fanno riferimento a questa singola get connection e quindi la classe DAO non ha più bisogno della JDBC URL purché la connessione la prenda non da driver manager ma dal mio dbconnect che ha il metodo get connection senza bisogno di specificarli nulla quindi ho semplificato il lavoro ho centralizzato un'altra operazione un'altra responsabilità che è quella di ottenere la connessione all'interno di un'altra classe specifica quindi questa operazione la faccio qui la faccio anche qui quindi non è driver manager ma è dbconnect punto get connection questa classe dbconnect potrebbe essere una classe con visibilità non pubblica ma package perché quindi non ci metto public davanti perché nessuno al di fuori del package db deve mai chiamare questa dbconnect e quindi solamente i metodi le varie classi DAO che vivono nel package db hanno il diritto e la necessità di poter chiamare questo metodo il metodo di questa classe allora come sempre proviamo a fare un run di prova non dovrebbe essere cambiato nulla abbiamo solamente fatto un pochino di ordine può sembrare un risparmio minimo risparmiare una riga di codice ma vi assicuro che copia e incolla di JDBC URL può creare tanti problemi ma soprattutto vi anticipo che tra un paio di settimane quando parlavamo di prestazioni rifaremo completamente questa classe troveremo un metodo molto più furbo di ottenere le connessioni e quindi lavoreremo solamente all'interno di questa classe dbconnect quindi se noi riusciamo veramente a mantenere separata la connessione dall'uso che facciamo della connessione all'interno del DAO abbiamo già il codice pronto per quando impareremo per quando impareremo anche queste cose per il momento quindi teniamoci buono il fatto che la connessione sarà gestita da una classe dbconnect specifica e poi i metodi del DAO la usano e chiameranno sempre solo questo nostro metodo getconnection che per ora è semplicissimo ma vi ricordo ve lo anticipo ancora una volta lo complicheremo parecchio per riuscire a raggiungere livelli di velocità di prestazione molto più elevati quindi questo è di nuovo lo schema base con cui lavoreremo sempre lavoreremo sempre quindi avremo una classe principale che non fa altro che chiamare metodi di DAO ogni volta che ha bisogno di accedere al database avremo una classe DAO che fa tutto il lavoro sporco di gestione dei result set e delle query e degli statement avremo degli oggetti semplici come station che memorizzeranno i dati e non avranno nessuna altra responsabilità se non memorizzare i dati e poi avremo la classe di connessione quindi avremo sempre queste quattro famiglie di classe DB Connect sarà una gli oggetti DTO saranno molti perché dipendono di fatto da quante tabelle ha il nostro database ciascuna tabella probabilmente dovrà essere mappata da un oggetto e su questo mapping faremo una lezione dedicata su quello che si chiama cosiddetto Object Relational Mapping cioè il corrispondenzial mapping tra gli oggetti e i database relazionali ci daremo delle regole per farlo in modo ordinato uno più classi DAO che saranno poi il cuore del nostro programma molto spesso per i programmi che dovremmo fare ci basterà un'unica classe DAO e poi c'è il model che una volta che hai i dati ovviamente farà ciò che deve la cosa importante che ribadisco come ultima che ci rimane fissa in mente è i metodi del DAO lavorano a oggetti restituiscono oggetti ricevono oggetti quindi se il metodo dell'eStation mi restituisse una stringa già formattata pronta per essere stampata con i nomi delle città delle stazioni sarebbe sbagliato sarebbe sbagliato perché staremo dando al DAO che ha come responsabilità principale quella di accedere ai dati daremmo a questo anche la responsabilità di formattare il risultato di decidere come concatenare dove andare a capo e da sbagliato perché quello è un lavoro invece che deve fare la parte di vista o di controllore quella più vicina all'interfaccia utente quindi cerchiamo veramente di essere per il nostro bene rigidi e dare delle interfacce che lavorino con oggetti o collection di oggetti tra il model e il DAO così come anche tra il model e il controller abbiamo fatto questa scelta e poi ci pensa il controller spacchettare gli oggetti e stradare le stringhe ma quello è un lavoro sporco antipatico che fa il controller il DAO fa il lavoro sporco antipatico di gestire il database estrarre i dati e convertirli e alla fine per fortuna al model rimane il lavoro intelligente perché due parti di lavoro sporco li hanno fatti da un lato il controller dal lato il DAO e al model finalmente rimane da concentrarsi sugli algoritmi algoritmi di cui cominceremo a parlare la prossima settimana quando parleremo della ricorsione ma ovviamente adesso vorremmo fare un po' di ginnastica un po' di esercizi di utilizzo del database per riuscire diciamo così a padroneggiare questi vari concetti che abbiamo visto oggi arrivederci alla prossima per riuscire per riuscire